piccola sosta a De Monte con questo barettino adesso si prosegue verso Colle della Lombarda e poi la bonnetta, tempo permettendo tempo sembra che tenga, si vedrà a a a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Tempo variabile. Sempre molto bello. Sant'Anna Montanazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo entrando nel territorio francese. Grazie a tutti. 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 E là in alto c'è il terrazzino a 2.882 metri. c'è questo. E' anche qui. Siamo salendo sopra il terrazzino. La Biblia. Ancora qualche metro. poi arriviamo a 2.882 metri, il punto più alto. Panorama niente male e là c'è il terrassino siamo quasi arrivati ciao eccolo arrivato per prima c'è il terrassino mi sta volteggiando sulla bonnetto aspettando è quasi a pari suono mi studi in destante? si io qua l'intermante è qua l'intermante è qua terza aquila tre aquila e le lasi sono più belle le lasi sono più belle le lasi sono più belle un'altra la la Grazie a tutti. Grazie a tutti.